E noi siamo Caterpillar e questa è Radio 2, adesso la porto, visto Max Gazzè cantava i cent'anni, bene, lui è Luigi Centanni e ci racconta quello che farà la WISP, l'associazione sportiva, però la sede di Iesi, quella di Reggio Emilia, ha già donato 50 milioni di passi, è stata la prima donazione gigantesca. Loro fanno l'operazione mezza maratona più un quarto di qualcosa, Luigi buonasera. Buonasera, buonasera, buonasera Luigi. Che cosa succede? Un quarto, dica bene perché questa non è male. Ecco, noi abbiamo pensato per questa occasione di portare un'iniziativa ad hoc che era un ringraziamento alla nostra amata terra, Iesi e la Vallesina, e quindi portare le persone a spasso per un quartino di mezza maratona, quindi 5 km a piedi, dove a termine per ingiassare sempre la nostra amata terra porteremo, grazie al gruppo folkloristico Urbani in classe di Apiro, balli e canti come Fattarello e canti di questo, e poi volevamo fare un augurio per il futuro, per il nostro futuro soprattutto, alla nostra amata terra. E come? Un bel bicchiere di verdicchio. Verdicchio? Un quartino di verdicchio per un quartino di maratona. Un quartino di passeggiata più un quartino di verdicchio. Bellissimo, se potremmo arrivarci prima ma è un quartino è lungo, Luigi. È bellissimo, cerchiamo di mantenere la proporzione. Quanti quartini sarete? Cioè quante persone prevedete? Noi speriamo bene che il tempo ci reggiano un po' la mano, adesso stiamo facendo un po' di maltempo, però noi speriamo di portare in piazza almeno 100-200 persone. Adesso ci stiamo muovendo. Adesso convertiamo i 200 quartini in cosa. Grazie. Diamo l'appuntamento per chi volesse venire, Luigi. L'appuntamento è per le ore 18 dal palazzo dello sport, per chi vuole passeggiare con noi, e poi il Comune di Iesi spegneranno le luci delle maggiori piazze, quindi contribuirà a questa iniziativa. Un ringraziamento a tutti i nostri amici che partecipano. Grazie Luigi. Luigi, non dobbiamo andare in modalità ringraziamento. Ciao, 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 ciao. Arrivederci. Arrivederci.